Ogni tanto Facebook ci ripropone i vecchi post di qualche anno fa, i cosiddetti ricordi, a parte che sono sempre momenti tragici in cui ti vengono ricordate cose belle, momenti belli che sono svaniti come lacrime nella pioggia, eccetera, eccetera. Ma altre volte diciamo che è interessante vedere quello che ci piaceva, per cui andavamo matti solo pochi anni fa e di cui ora non ce ne frega più assolutamente niente. Non so se è mai capitato, a me capita spesso, proprio grazie alla funzione ricordi di Facebook e in parte minore di Instagram. Così il signor Facebook mi rammenta che fino a tre anni fa, circa quattro anni fa, io andavo matto per tutta la saga cinematografica della Marvel, ma proprio andavo matto, ero lì a aspettare l'uscita di tutti i film, specialmente quando poi si è sviluppato il progetto Avengers che è finito con Avengers Infinity War, Avengers Endgame, ma avevo proprio conquistato, avevo proprio l'hype e continuavo a postare cose riguardanti a quei due film nello specifico, ma anche a tutta la struttura della trama e a come si era sviluppato, in modo, secondo me, comunque davvero unico il Marvel Cinematic Universe, passando attraverso vari film partendo da questo, che avevo visto al cinema quasi per caso, senza avere il minimo settore che sarebbe diventato una struttura così complessa e memorabile. Questo è il primo Iron Man, perché sì, ai tempi compravo anche i DVD. E mi era presa proprio bene la cosa, prima di tutto perché ero sempre stato, sono sempre stato un lettore di fumetti Marvel, cosa che non faccio più oramai da diversi anni, perché le pubblicazioni sono indecenti, sia a livello di uscite, ma anche di contenuti. E poi perché comunque avevo visto proprio una costruzione, adesso ci noto anche le tante lacune, ma una costruzione notevolissima di un impianto narrativo su un così ampio margine di tempo, quindi dieci anni, se non ricordo male, e su una struttura di personaggi così complessa e così ramificata, che poi diciamocelo, molti film della fase 1, erano fase 1, fase 2, adesso tendo a dimenticare anche quali sono le fasi precise, però molti film erano dimenticabili, ma quello che andavano a comporre era comunque notevole, attirava la mia attenzione, mi spingeva a vedere i film, che io diciamo un buon 70% dei film di quelle fasi lì, le ho viste al cinema addirittura, pensate un po'. Poi cosa è successo? Poi è successo che, secondo me, dopo Endgame, la Marvel ha voluto cambiare, innanzitutto approccio proprio a come propone, come produce contenuti, quindi ha fatto un po' quello che fa la Marvel Comics negli Stati Uniti da qualche tempo, perdendo lettori praticamente ogni anno, ogni mese, riducendosi ai minimi termini, ovvero propongono sempre tematiche, sempre tematiche, tra virgolette, educative. Che cosa c'è di male? No, c'è nulla di male a educare, perché comunque Stan Lee, con i suoi fumetti, è stato il primo a usare questo media per parlare di diversità, pensate agli X-Men, di minoranze e queste cose qui. Però si era sempre un fondo di avventura e di fruibilità, di intrattenimento, quindi si parlava, sì, di diversi, di reietti, di mutanti, di quello che volete, di eroi di colore. Alla base c'era comunque delle storie accattivanti, divertenti, tizi con superpoteri che si menavano di brutto, tanto per semplificare. Invece adesso abbiamo sempre il compitino, sempre il compitino, no? Quindi ogni fumetto, ma anche ogni nuova serie, è finalizzata a andare a lisciare il pelo a una specifica minoranza, che poi non sono più neanche tanto minoranze, vuoi etnica, linguistica, di tutti i tipi. Quindi si è persa la spontaneità. Ecco, adesso non fatemi passare per quello conservatore che ce l'ha con i woke, tutte queste menate che sono discorsivamente sfiancanti, però sono prodotti che hanno perso la spontaneità e che secondo me non raggiungono neanche l'obiettivo comunque di insegnare qualcosa, come facevano invece i fumetti a partire dagli anni 60, 70 in poi, perché sono talmente legnosi e hanno alle loro spalle delle sceneggiature talmente forzate che difficilmente qualcuno arriva alla fine a vederli se non è proprio interessato per quei contenuti di quel genere. Quindi vanno comunque a riferirsi a un pubblico che già vuole vedere contenuti di quel genere e non raggiungono un altro tipo di pubblico che infatti pian piano si allontana. Ma il problema principale perché mi ha fatto disannamorare del progetto Marvel Cinema e TV è un altro. Ok, la prima fase era bella perché ho detto era ramificata ma tutto componeva un quadro, in un contesto comunque diciamo abbastanza alla portata di tutti, che poi non è così perché già allora cominciavi a perderti un film e lo spettatore casuale non riusciva a capire tutti i film successivi. Lo so perché io sono andato al cinema a vederli con gente che non è Marvel fan e quindi a volte vedeva dei personaggi, dei cammini, delle battute che se tu non conoscevi il resto del mondo della Marvel dicevi ma chi è questo? Ma cosa succede? Ma cos'è sta battuta? Cosa mi dice? E adesso è peggio, adesso è cento volte peggio. Tu devi vedere cinque film e quattro serie TV per capire l'ultima puntata di WandaVision. Esempio a caso. Quindi lo spettatore casuale o va per vedere degli sganassoni e poi tutto il resto che c'è in mezzo non lo capisce e chi se ne frega e può essere una possibilità per esempio di chi va al cinema con i bambini soprattutto tanto i bambini vogliono vedere supereroi colorati che fanno cose rumorose insomma ecco. Ma se ci va un adulto, ammesso che questi siano film ancora pensati per un pubblico adulto di cervello anche se ci va un adulto che è a digiuno di qualche serie TV Marvel o di qualche film Marvel la possibilità che non ci capisca una beata fava è molto alta ed è in crescendo. Secondo me arriveremo fra qualche anno che ci sarà una complessità tale di roba da vedere per capire tutto il progetto Marvel che uno dovrebbe guardare solo questa roba qui ed è francamente inaccettabile anche perché ripeto la qualità media mi sembra in netto ribasso quindi io ho detto basta certo guardo qualcosa quando esce tanto sono abbonato a Disney per ora quindi quando arriva qualcosa che mi ispira gli butto un occhio finora non ho trovato quasi nulla che mi appassionasse il Dottor Strange nel multiverso della follia è forse il prodotto migliore in questa fase che non so neanche se è la terza o la quarta che cacchio di fase è ma non è una roba eccezionale è bello ma non è una roba eccezionale anche lì ci sono degli elementi che mio dio fanno abbastanza come dire mi rendono un po' perplesso ma tutto il resto specialmente le serie tv da Marvel io le ho abbandonate l'unica che mi è piaciuta è Winter Soldier carina carina perché è una struttura forse più classica WandaVision ha delle potenzialità ma l'ho abbandonata subito perché ho detto veramente c'è troppi riferimenti mi costringe poi mi costringerebbe perché poi non lo faccio a vedere altre cose no no mi piace tornare a un'usufruizione del cinema di intrattenimento che sia innanzitutto un po' più intelligente perché l'intelligenza dei film Marvel è calata 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 anche rapidamente lo dico io che le ho sempre difesi e poi che sia un attimo più circoscritta cioè che io vado al cinema mi vedo due ore di film poi finito quello posso pensare a un altro film e non posso e non non devo andare a casa a rovellarmi a cercare in rete perché personaggio X ha fatto il cameo nel film Y quando lo rivedremo cosa è successo a cosa si riferiva tizio quando ha fatto la scena di chiusura dopo i titoli di coda cioè vabbè un po' il giochino è stato bello e poi basta perché comunque a me adesso va stancato non ce la faccio più eppure mi sa che andremo sempre in quella direzione quindi la domanda che mi è spontanea visto che voi tanti di voi mi avete seguito fin dai tempi in cui recensivo tutti i film Marvel e quindi piacevano anche voi quanti di voi ancora seguono questo universo nella sua totalità e quanti invece come me guardano qualcosa quando capita su Disney per riempire un pomeriggio senza grandi aspettative e senza star lì a strapparvi i capelli quando esce il prossimo Doctor Strange perché a me proprio non capita più sono usciti anche di scena tutti i personaggi iconici diciamoci la verità l'unico rimasto è il Doctor Strange e Spider-Man che sono stati sfruttati uno non benissimo e l'altro abbastanza male direi boh questo volevo dire comunque siamo davanti a cioè sembra un problema del cavolo però siamo davanti a questa roba qui che è l'indizio su come l'entertainment l'intrattenimento sta cambiando e sta diventando una roba che tende a monopolizzare il nostro interesse schiacciando sempre di più le realtà minore sempre tutte quelle produzioni più piccole magari derivate da fumetti molto meno conosciuti che avranno sempre meno fondi avranno sempre meno spazio e meno distribuzione questo volevo dire insomma un ragionamento così un po' ampio su cosa è diventata la Marvel e su perché non mi piace più ma soprattutto anche su questo genere di narrativa del fantastico in questo caso cinematografico e televisivo che non so più se mi piace anzi no non mi piace perché vorrei che diventasse qualcos'altro un po' come nei vecchi tempi quindi qualcosa di più di meno strutturato o di strutturato meglio ma mi sa che non avremo nel primo nel secondo che vi devo dire comunque aspetto i vostri pareri poi iscrivetevi al canale mettete un mi piace e quello che volete insomma le cose da fare le sapete se volete farle per me sarà un piacere grazie a tutti